musica nana! nana! sei che? ma sentite fra i voi stanno oggi vota per forza ma è di mia che so te i porti che passano i tredici o il vento di stanoce te che lo sapete? tutto sui regni lo sapete tutto ah ma scusate te ma che lei che? ma il tuo com'è? toglie tantini più mol ma no c'è una mola quasi l'ha mai andata di che? non è andata di più la mola? del virtù dei naci del virtù dei naci si 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 e te gires gires si brah si è piaciuta di avere un intervista e non è andata di avere un intervista e non è andata di avere un intervista e non è andata di avere un intervista ma te paga almeno la retta ma sei contesto io mi paga la retta sei contesto la retta la paga me caro la retta la paga mia doma per me eh la paga per me perchè la miserabila dava nessuna l'ernestina ma non assi un po' per me mi chiamate oh mi chiamate sei lì nani Ernestina no te mi chiamate tu mi chiamate se ne direi che parlai con la nana cos'è lì è? nooo ma scusami sei che? tu viene a gomme? ma ecco però sei che? sei che? sei che? chi la che sta a chi? ohhhh sono l'agenziana sono la compagna di stanza la compagna di stanza di chi? mi chiamate mi chiamate mi chiamate sei quando? quando mi chiamate mi ha presentato la sua donna la sua futura moglie mamma mi dice a te presente la mimì mi 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 c'è vestiti il nome di artista ohhhh altro faccio un artista coi fiocchi eh mi mi diminutivo di domenica ma l'inverno che va da me se modello l'uomo capica come scende la che entra niente scoltami Bea se entra adesso o no che entra via quanto scende pota scusa ma come mi chiamate il cognome? primavera e lui e lui si fa il mio spuso ma l'inverno ma l'uomo la mia eh e ma te sei anche su pestisciusa scelta te se fai mancaa troppe negotte eh ah se ti chiamala su pestiscius fatto lei che le quattro anni che so che ho più resmi su eh vabbè a parte che la miserabile della mia Ernestina eh eh pota certo ma l'uomo la mia ho senti che te mi chiamate ma Ernestina mi chiamate che le miele da un giardino pota certo se le andiamo a me ho senti Dina ma adesso se ne andrà cosa fai fai un metro in des menù che bella anche stamattina e vedi che scarpe che cos'è stamattina i gambe viva mia e io regge sei però eh derudato il signore sempre salutato padre sempre salutato pentitevi l'ora della morte è vicina eh pentitevi e chiedete perdono pecore smarrite no ma mi chiusi e pecore smarrite in due che va mai foda che eh più preos noi dobbiamo pasturare ma chiedere è per me smarrirci no? tutti siamo smarriti quello vacca e dobbiamo farci perdonare qualcosa ah seguitemi in chiesa di corsa eh eh certo come no eh oh dica camminare velace a che se vede a te a cuore adesso ma che a cuore mi so che sei l'aria di questo nome mi mette a cuore perché ne è adesso ma dice e poi dopo mi è scusa reverendo noi trincesa stiamo andati domenica mattina eh e come si state sortunate perchè me invece mi è ducati in da polone bene e sta tutta la cesa eh e allora ritornateci ah si l'anima va curata come il corpo bene allora sta a posto no perchè reverendo se non cura l'anima come chi cura il corpo potete che mia tata sta 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 proprio sce eh 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 allora chi l'ha suonato? eh 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 e vai eh 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 se tu dimmi che riesce a vedere oggi la scumessa o il catetere del giovedere mi tocca a me venga allora me che paga paga e ti deve mettere tutte le ore pervenne se so io o se so morta eh Kaila ascoltiamo a me ehm slonga la la cosa la la io non so signorlino cos'è cosa la cosa la cosa no te ti sei anche laureata me la laurea te che bucuna la cosa è la la quella che la cisa santa non so che la cisa santa voleva siringa eh la siringa la siringa la siringa signorlino siringa e c'è un'altra che fa un altro gruppo no no signorlino io direi una cosa ma tu no disinfetta la siringa prima di fare prelievo la garisù la garisù pensa ti mi fai parlare con questa che ma se ti smenti che ti fa lo più importante che che è disinfettare la siringa ostriga no 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 ma no signorlino no così siringa per favore no no al tuo paes al tuo paes forse che in Italia sei d'ora che il metodo che è asli italiana sto sentando sovete buongiorno come andiamo qua dentro oggi allora su sedute sul letto che vi visitiamo dai no grazie 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 tele Edmontre che con una mia bella idea di svegli che ma 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 ascoltami Mimì ma la vostra presenza non è proprio indispensabile non so dovevo venirci da sola secondo te dai le dica che siamo arrivati su si sbrighi Mimì forse è me che tu non l'ho trovata eh che si dice ma tu senti che discorsi ma poi te la vuoi smettere di avere paura uè uè se ti fai presto a dirne se mia la sospetta però e con questo adesso siamo qui e l'aspettiamo guarda che il fondo conviene anche a lei un accordo eh le abbiamo trovato un posto dove stare mica l'abbiamo buttata in mezzo alla strada mi risulta eh anche che sto lei la però Mimì e poi con quei quattro soldi lì di pensione mica potevamo permetterci una suite reale ci bastano sino per campare e farci quindici giorni a salso maggiore poveri cari oh guardi che noi andiamo a curarci abbiamo bisogno di cure termali c'è mica ci divertiamo noi sì scuse ne sei notere che mi fa la bella vita che la reggia chi ma si è lì che per diga questo e cosa c'è di strano? ne pensi che il metodo del rasoio ne la metti in atto ne l'ha messo bene ma allora come sta la paziente? veramente tu turni lì come stu come si deve guardare il bè secondo me secondo me bisognerà superarla eh ma si andrei a dire i beltai di che a che per constatare il suo stato di salute eh? ah si ma te per constatare che te tagliamo oh? facito facito tagliando spenderai scontrullare me il stato dei tuoi organi eh? allora i miei organi sono te i bè senza considerare il vantaggio che una volta che dopo non ti ha richiusi se ho il controllo ti ha fede per te quotidianamente hai capito? ah io Rocco ma che stupida se trovi un tò seppo madonna me l'è una tecnica nuovissima chirurgica efficacissima vero professor? eh si capì Bea capì? io ti metto una chiusura lampo eh bene vedete la spicciana del vento adesso è qui vede per te comoda comodissima nanà la piante ci fai in giro po' te adesso ma no la piante ma la fai sceperdita eh che sto venendo a bere si madonna che ho una nausea eh cosa sento? non sarà una gravidanza? ma cosa si dire a dire? ma cosa si dire a dire? ma cosa si dire a dire? ma scusine ma a meno di grosse sorprese la Bea che la che avresti meno pausa almeno di... madonna me l'è la età che l'è meno pausa che l'avè e con questo? com'è con questo? come l'ho detto Bea come l'ho detto come l'ho detto che c'è che la sagnà cosa l'è meno pausa che cosa vuol dire meno pausa? io lo so ma oggi ce lo spiega Gino? ah grazie grazie beh letteralmente meno pausa vuol dire più attività pertanto maggiore l'è l'attività sessuale maggiore l'è il rischio della stancita eh? perfetto grazie grazie